Il microchip del navigatore satellitare di Mattias Schepp, il piccolo pezzo trovato sabato tra i binari della stazione ferroviaria di Cerignola, contiene la memoria del GPS. La conferma è giunta direttamente dagli Stati Uniti dove la polizia ha inviato una foto del piccolo microchip che è stato già inviato alla ditta Garmin che produce quel tipo di navigatore satellitare e dove giungerà nelle prossime ore. Una buona notizia dunque per gli investigatori che hanno avuto così la certezza di aver recuperato il microchip che contiene la memoria del GPS e che potrebbe essere utile per capire che fine abbiano fatto Alessia e Livia, le due figlie di Schepp scomparse dal 31 gennaio scorso da quando cioè l'uomo le ha rapite dalla loro abitazione in Svizzera. La speranza ora è che nella memoria possono essere contenute informazioni utili al ritrovamento delle due bambine. Intanto domani, come anticipato il dirigente della squadra mobile di Foggia Alfredo Fabrocini, riprenderanno le ricerche nella speranza di poter trovare il registratore dell'uomo. Sull'apparecchio elettronico l'uomo potrebbe aver registrato frasi importanti per capire che fine abbiano fatto le sue figlie. Ricerche che saranno anche stese alle campagne circostanti la stazione ferroviaria di Cerignola.